Tecnologia, innovazione e cervelli insieme per migliorare non solo la vita dei cittadini ma anche per rendere le imprese toscane sempre più competitive al passo con i tempi e al centro dello sviluppo. Per fare questo serve fare rete tra chi fa ricerca, chi produce e ancora chi amministra. Va in questa direzione anche la tuoi giorni di Toscana Tech promossa dalla Regione al Palazzo dei Congressi di Firenze i prossimi 19 e 20 novembre. Una vera e propria full immersion sui temi della digitalizzazione e dell'industria 4.0. Tante imprese, tanti esempi virtuosi di come le risorse comunitarie sono state messe a disposizione nella Regione del nostro sistema di impresa rappresenteranno il percorso del loro fatto. I centri di competenza, le università accompagneranno e dimostreranno come l'innovazione, l'industria 4.0, tutto ciò che attiene alla rapidità della connessione può mettere il nostro sistema produttivo in una condizione di vantaggio. Serve anche un dialogo molto più stretto fra chi fa formazione e quindi la scuola e le università e le imprese. È questo che cerchiamo sempre di favorire e a cui vogliamo dare una vetrina nella due giorni di Toscana Tecnologica. A Toscana Tech sfileranno anche le innovazioni e le buone pratiche, tra queste quella di Save My Bike, un dispositivo sviluppato da un team di imprese con il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Pisa. L'antifurto della bicicletta è fatto da tre diversi moduli. Un primo modulo è quello dell'area sicure, cioè individuare delle zone della città dove lasciare la bicicletta e nel caso in cui questa venga mossa e spostata da quella zona mandare un allarme sia localmente che sull'app che viene fornita gratuitamente agli utenti. Poi l'altro modulo è il modulo di ritrovamento, ovvero abbiamo dei lettori portatili dati agli asiliari del traffico, ai cittadini attivi, ai vigili che rilevano le biciclette che sono state nella blacklist rubate. L'altro elemento sono dei sensori interni alla bicicletta, inamovibili in questo caso, che ne costituiscono la carta d'identità. E poi c'è il sistema di Air Cardio che consente di monitorare le cardiopatie congenite, pediatriche e neonatali, anche tramite ambienti domestici, grazie al telemonitoraggio controllato da strutture ospedaliere. Non mancano le innovazioni in campo logistico con la piattaforma di Logis e il sistema People Detection, in grado di aiutare i conducenti dei mezzi in movimentazione ed evitare incidenti con personale a terra. Grazie ai livelli di allarme sonoro e visivo che saranno inviati al conducente, interessante anche la soluzione di Corec, azienda pisana che ha progettato e brevettato un sistema di riciclo per i rifiuti in vetroresina. Corec ha messo a punto un processo termochimico, oggi brevettato a livello nazionale ed internazionale, che riesce a recuperare in maniera sorprendente, oltre la fibra di vetro che in realtà già viene oggi recuperata dai comuni processi di pirolisi che si fanno sulla vetroresina, ma dicevo in maniera sorprendente anche la parte organica dello scarto in vetroresina, quindi riusciamo ad arrivare a rese che vanno anche fino all'80-85% di resina in peso, intendo, di resina sul rifiuto tal quale. I cervelli incontrano quindi le aziende per creare i business che aiutino l'ambiente, il lavoro, la vita delle comunità, innovazioni indispensabili oggi, come riafferma lo stesso assessore regionale Stefano Cioffo, che ricorda anche gli investimenti messi in atto dalla regione negli anni su questi temi, fa anche un chiaro richiamo al governo. Il governo passato ha messo a disposizione risorse importanti, la regione ha fatto altrettanto utilizzando le risorse comunitarie. Vedo un quadro molto confuso nelle politiche del governo attuale e io credo che questo tema debba essere messo in evidenza e non può passare in secondo piano l'abbandono sostanziale delle politiche di sostegno all'innovazione tecnologica da parte del governo.